Musica Al tempo del coronavirus si fanno più stringenti le misure anche allo stabilimento Exilva di Taranto. Ad ogni varco gate infatti il personale sia diretto che indiretto sarà sottoposto a controllo della temperatura che avrà oltre 37 gradi e mezzo non potrà accedere in fabbrica. La multinazionale imporrà rispetto delle norme contro la diffusione del virus anche alle ditte dell'appalto minacciando in caso di violazione l'inibizione all'accesso all'interno dei propri stabilimenti e la denuncia alle autorità. Dunque si alzano i paletti della sicurezza almeno per ciò che attiene eventuali casi di positività. Grazie a tutti.